ancora un taglio al bietri via le terapie oncologiche stoppa le cure all'ospedale di larino i pazienti dovranno andare al santimoteo di termoli resta in funzione solo l'ambulatorio per i controlli padre e figlio uniti da un tragico destino quasi certamente disposta all'autopsia sul corpo di pasquale arienzale il camionista morto sulla statale 87 16 anni fa perse la vita il figlio in un incidente di moto acqua pubblica il dibattito torna in aula domani a palazzo san giorgio la questione del servizio idrico collegato all'istituzione dell'egam già pronta una mozione contro la privatizzazione cimitero degli animali la mozione del movimento 5 stelle a termoli il gruppo dei pentastellati presenta in consiglio comunale la proposta prevede un'area dove seppellire gli animali da compagnia calcio regionale le finali nel weekend sabato in promozione ielsi vulcania si giocano l'accesso in eccellenza domenica vasto girardi e isernia per i playoff che valgono la fase nazionale buon pomeriggio un saluto a tutti voi edizione le 14 del nostro telegiornale la sanità torna in copertina perché c'è un altro taglio da segnalare questa volta la notizia arriva dal vietri e quindi da larino stop alle terapie oncologiche con le prestazioni sanitarie che saranno erogate ai pazienti soltanto al santimoteo di termoli una situazione chiaramente che mette in grave difficoltà la zona i pazienti della zona e l'ospedale rimane naturalmente nella sua funzione di ospedale di comunità e per quanto riguarda invece le prestazioni oncologiche ci sarà solo un ambulatorio per i controlli sentiamo fabrizio occhio nero le ultime cose sono state caricate sui camion e trasferite al santimoteo di termoli l'ospedale vietri di larino perde così ancora un altro pezzo quello delle terapie oncologiche conseguenza della riconversione del presidio frentano in ospedale di comunità stabilita nel riordino sanitario che non prevede personale destinato a questa tipologia di servizio chi combatte contro un tumore dovrà ora raggiungere l'ospedale di termoli per ricevere le chemioterapie o altre prestazioni non potrà più farlo a larino per motivi di sicurezza tutto si svolgerà al santimoteo anche per il tipo e la delicatezza del trattamento che richiede personale reparti attrezzature non più disponibili al vietri per effetto delle modifiche al piano a larino resterà solo un ambulatorio destinato agli screening oncologici una struttura in sostanza svuotata sempre di più di reparti e ridotta ospedale di comunità rispetto a un territorio che conta migliaia di abitanti e a ciò che negli anni è offerto ai cittadini dell'intero comprensorio e non solo i disagi per i pazienti che dovranno raggiungere termoli e non erano ancora conoscenza della novità non mancano così come si rinnovano le proteste del comitato provietri che intanto aspetta la decisione dei giudici amministrativi per la sentenza di merito che riguarda proprio la difesa dell'ospedale torniamo a parlare dell'incidente costato la vita ieri ad un 58enne di Sepino il camionista rimasto schiacciato dal suo stesso tir che si era ribaltato sulla statale 87 con molta probabilità sarà disposta all'autopsia ma c'è sullo sfondo una notizia che naturalmente a Sepino conoscono in tanti ma che ha aperto uno squarcio su questa vicenda nel 2001 perse la vita sulla stessa strada in un incidente di moto il figlio un destino tremendo una trama scritta sull'asfalto della statale 87 quella che ha legato per sempre pasquale arienzale a suo figlio il camionista che è rimasto schiacciato sotto la cabina del suo tir aveva perso il figlio giuseppe in un incidente di moto a poche centinaia di metri da Sepino al bivio che collega il paese alla statale tra pochi giorni ricorre il sedicesimo anniversario della tragedia su uno scooter che un amico pare gli aveva prestato per un giro pochi chilometri sulla statale 87 poi le curve per tornare in paese e un furgone che percorreva la stessa strada lo scontro fatale al ragazzo che non aveva ancora compiuto 18 anni era il 20 maggio del 2001 a distanza di 16 anni ancora un gravissimo incidente ha colpito la famiglia arienzale e strappato alla vita pasquale 58 anni camionista della ditta tamburro calcestruzzi di san giuliano del sannio il magistrato per chiarire se l'uomo abbia avuto un malore prima che il camion si ribaltasse sarebbe intenzionato a disporre l'autopsia le indagini condotte dalla polizia stradale di campo basso dovranno rivelare cosa ha causato il ribaltamento del camion che trasportava un escavatore se il carico era posizionato nel modo giusto oppure se sia stato l'asfalto bagnato la causa dell'incidente ma intanto a sepino tutto il paese è rimasto attonito dalla notizia della morte di pasquale subito collegata con l'altro drammatico incidente un lavoratore una persona stimata da tutti lo ha ricordato il sindaco paolo danello arienzale era sposato e lascia la moglie una figlia che da poco lo aveva reso nonno si riapre il dibattito sull'acqua pubblica che per settimane ha tenuto banco nell'agenda politica soprattutto in consiglio regionale poi l'istituzione dell'Egam in consiglio comunale si parlerà proprio della gestione ma è già pronta una mozione contro l'arrivo dei privati il servizio di anna maria di matteo tornerà riunirsi domani dopo una pausa durata oltre un mese il consiglio comunale di campo basso e l'ordine del giorno è particolarmente ricco di argomenti che interessano molto da vicino i cittadini il movimento 5 stelle ha presentato una serie di mozioni interpellanze che affrontano questioni di strettissima attualità tra le interpellanze c'è quella firma del consigliere roberto gravina che si occupa del problema mianto su quale occorre fare chiarezza anche alla luce dell'incendio di pomezia gravina chiede di conoscere la situazione sull'intero territorio comunale degli edifici che contengono il minerale le cui fibre sono particolarmente pericolose per la salute un problema sollevato in passato dal consigliere che aveva segnalato la presenza di diversi immobili con coperture in amianto e che ora chiede di sapere a che punto è la situazione e se esista uno screening generale ma in primo piano ci sarà anche ed ancora l'avviso pubblico per la ricerca di un immobile da acquistare per ospitare la sea i consiglieri 5 stelle che già in passato erano intervenuti sulla vicenda denunciando gli elevati costi per l'intera operazione chiedono al sindaco la revoca dell'avviso tra le mozioni c'è poi quella che punta all'attenzione sulla gestione delle risorse idriche legata alla recente istituzione da parte della regione del legame i pentastellati tornano a sollecitare la necessità che il servizio idrico sia assegnato ad un gestore pubblico e in tal senso chiedono un atto di indirizzo ufficiale da parte del comune in particolare al sindaco battista che dovrebbe essere il presidente del legame l'acqua è un bene essenziale che deve essere accessibile a tutti ricorda il consigliere gravina e dietro una gestione privatistica del servizio si nasconde inevitabilmente il lucro intanto quello che appare certo è l'aumento delle tariffe anche per i comuni virtuosi che hanno provveduto a spese proprie al rifacimento delle reti idriche riducendo così le perdite ma che nonostante tutto questo si vedranno imporre costi elevati insomma su questo argomento occorre vederci chiaro e soprattutto procedere con estrema cautela per evitare che l'acqua finisca nelle mani sbagliate via libera del senato al disegno di legge sul lavoro autonomo che garantisce le prime forme di tutela sociale a quanti svolgono un lavoro senza vincolo di subordinazione il provvedimento prevede in sostanza indennità di disoccupazione per i cosiddetti coca coli indennità di maternità e il congedo parentale forme di tutela ha dichiarato il senatore roberto ruta fino a oggi assenti per i lavoratori autonomi una linea di demarcazione fondamentale aggiunto il parlamentare stabilita dalla riforma del lavoro per smascherare abusi e false partite iva e riconoscere più diritti ai lavoratori autonomi non imprenditori soprattutto giovani parliamo dell'itr il ministero dello sviluppo economico ha revocato la carica di commissario ad andrea ciccoli dopo le dimissioni di spada resta in carica soltanto rimini sentiamo enzo di gaetano è ufficiale al timone della vecchia il t holding la società commissariata nel 2009 con la legge marzano è rimasto il solo emanuele rimini avvocato romano chiamato a sostituire l'altro avvocato romano ghia a sua volta primo sostituto del dimissionario stanislao chimenti destini diversi per gli altri due commissari originari roberto spada e andrea ciccoli il primo si era già dimesso dal suo incarico nell'ottobre scorso mentre il secondo è stato dichiarato decaduto al termine della procedura avviata dal ministero dello sviluppo economico infatti con decreto del 7 aprile sono state accettate le dimissioni di roberto spada ed è stato revocato l'incarico commissariale ad andrea ciccoli ciccoli aveva ricevuto la comunicazione dell'avvio del procedimento a suo carico già il 14 ottobre scorso per poter esporre di conseguenza le proprie deduzioni così come previsto dalla legge la nota faceva seguito inoltre alla proposta della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività chiamata a vigilare sulle procedure di amministrazione straordinaria la quale in una relazione aveva sollevato delle contestazioni nei confronti dei commissari dure le motivazioni alla base del provvedimento del ministero si parlava di oggettiva inidoneità dell'organo collegiale ad assicurare un'efficiente ed efficace gestione della procedura di amministrazione straordinaria e per conseguenza una cura adeguata degli interessi pubblici cui la stessa è finalizzata come emerge in particolare dalla confusa disomogenea e non compiuta rappresentazione dei costi della procedura dall'assenza di ponderate e concrete iniziative per la rapida conclusione della gestione liquidatoria della procedura e al contempo dal compimento di atti in assenza della preventiva autorizzazione ove prevista i sensi di legge e infine dall'adozione di criteri di determinazione dei compensi e degli incarichi di assistenza e consulenza legale penalizzanti per la procedura e dal mancato controllo del corretto svolgimento degli incarichi stessi lanci l'associazione nazionale dei comuni lancia l'allarme una multa irrogata dall'istat rischia di farci scomparire dicono sentiamo tonino danese per la quasi totalità del territorio il molise è costituito da piccoli borghi moltissimi con meno di mille abitanti questo è in realtà il grido d'allarme del lanci molise l'associazione dei comuni sono già moribonde l'istat dà il colpo di grazia lanci regionale con il suo presidente pompilio sciulli ha evidenziato che in questi giorni l'istituto nazionale di statistica sta mandando a diverse amministrazioni multe salate per aver omesso di fornire i dati richiesti per la rilevazione statistica sui permessi a costruire del 2013 tecnicamente l'istat non ha ricevuto le informazioni per le mensilità nulle cioè quelle in cui non erano stati rilasciati i permessi per lanci molise si tratta di un atteggiamento vessatorio dello stato nei confronti dei piccoli comuni visti solo come costi inutili da tagliare pompilio sciulli ha ricordato che negli ultimi cinque anni si è bloccato il turnover del personale sono stati tagliati trasferimenti per 204 euro per abitante e allo stesso tempo emanati oltre 60 provvedimenti che trasferiscono ai piccoli comuni nuove funzioni competenze e adempimenti per la gran parte inutili le sanzioni dell'istat ha proseguito sciulli diventano così uno sfregio all'impegno dei dipendenti dei piccoli comuni cosiddetti minienti alla luce delle richieste di diversi sindaci molisani il presidente regionale del lanci insieme ai suoi colleghi delle altre regioni ha scritto alla direzione generale dell'istat per chiedere che faccia un passo indietro per evitare un inutile contenzioso tra enti pubblici ulteriore richiesta è stata poi rivolta ai prefetti di campo basso isernia affinché intervengano per indurre l'istituto di statistica a fare un provvedimento che consenta di riaprire i termini nei confronti dei comuni che per cause di forza maggiore hanno tardato a fornire i dati richiesti sulla rilevazione statistica sui permessi a costruire del 2013 e dove lo stato dove lo stato arretra noi rafforziamo la presenza ha detto invece a isernia il tesoriere nazionale della will benedetto attili in occasione dell'inaugurazione della nuova sede il servizio di sergio di vincenzo in un periodo in cui lo stato arretra tagliando i servizi nelle aree ritenute marginali la will va in controtendenza rafforzando la presenza sul territorio questo è il messaggio lanciato durante la cerimonia inaugurale della nuova sede di sernia del sindacato un segnale chiaro per dire che è ora di dire basta al continuo scippo dei presidi statali e al ridimensionamento dei servizi in primis quelli sanitari al contrario bisogna lottare per tutelare i diritti dei cittadini molisani e creare nuova occupazione premessa necessaria per il rilancio di queste aree dimenticate da tutti concetti questi rimarcati con forza anche dal tesoriere nazionale della will benedetto attili è da tempo che la will ha invocato questo percorso è particolarmente attivo e significativo nel molise grazie anche all'azione del tecla boccardo e della segreteria della will molise noi crediamo fortemente nell'investire sul territorio in maniera tale da dare servizi ai cittadini ma soprattutto di potenziare quella che deve non ci dobbiamo scordare di quale è l'azione principale del sindacato la tutela dei diritti delle persone che ci danno fiducia lavoratori, pensionati e chi è in cerca di lavoro Lei ha seguito anche la vicenda del riordino delle province è stata fatta un'operazione in fretta e furia più di immagine e di ricerca di facile consenso senza preoccuparsi di quale sarebbe stata la rigatuta sulla vita quotidiana dei cittadini questo è un vulnus a cui il governo dovrebbe porre il rimedio immediatamente ad accogliere il tesoriere c'erano tanti iscritti e simpatizzanti a dargli il benvenuto anche il presidente della provincia Lorenzo Coia e il sindaco Giacomo da Pollonio a fare gli onori di casa il segretario regionale della UIL Tecla Boccardo nel rivendicare la lotta del sindacato per l'area di crisi ha lanciato pesanti bordate sia alla politica nazionale regionale rea di aver letteralmente abbandonato la provincia di Sernia sia a quegli imprenditori che hanno solo saccheggiato il territorio Siamo convinti che il dare più attenzione e maggiore attenzione ai territori porta sempre dei risultati importanti il nostro spirito è stato proprio quello che ci ha guidato anche quando abbiamo pensato quando tutti andavano via da questo territorio compresi gli imprenditori e quelli che sono stati i prenditori di risorse pubbliche in questo territorio che hanno praticamente flagellato questo territorio quando tutti consideravano questa una provincia di periferia e lo Stato stesso che la considera una provincia da annullare noi invece vogliamo rafforzare la nostra presenza vogliamo gridare a voce forte che da questi territori ci sono tutte le opportunità per lo sviluppo e non è con il taglio, con la chiusura degli uffici pubblici, dei servizi pubblici non è con il taglio che si fa a cassa ma con una migliore riorganizzazione 12 persone sono state denunciate dai carabinieri perché si sono rese protagoniste di una maxi rissa che si è svolta a Riccia in un'attività commerciale dopo le indagini e le testimonianze raccolte i militari hanno ricostruito l'accaduto e individuato tutti i responsabili denunciato anche il gestore locale per disturbo del riposo a causa del volume della musica troppo alto andiamo ora a Termoli per parlare di una mozione intorno al quale si è già sviluppato un dibattito ma che dovrà essere discussa in consiglio comunale che prevede, è la mozione del Movimento 5 Stelle che prevede di individuare un'area dove seppellire gli animali da compagnia il servizio è di Manuela Iori La sensibilità nei confronti degli animali da compagnia cresce sempre di più c'è sempre più attenzione al loro benessere e al riconoscimento dei loro diritti compagni in alcuni casi insostituibili anche di persone sole non solo dal punto di vista fisico ma anche affettivo un legame profondo insomma quello che si instaura con l'uomo e allora perché non dare al cane o al gatto che esso sia una degna sepoltura anche quando arriva il momento del distacco insomma avere un cimitero pubblico per animali da compagnia così come già esiste in tante altre città italiane come Ferrara, Cuneo, Asti, Milano ora potrebbe averlo anche Termoli perché il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale in programma giovedì con cui si chiede all'amministrazione guidata da Angelo Sbrocca proprio di realizzare un cimitero degli animali pubblico e gratuito dove i cittadini che lo desiderano possano seppellire i propri animali da compagnia a Termoli sempre più persone ospitano in casa uno o più animali con cui trascorrono una parte considerevole della loro vita scrivono i 5 Stelle nella mozione al momento quando muore ad esempio un cane dopo averlo segnalato all'asle di riferimento bisogna rivolgersi a un servizio privato o un ambulatorio veterinario con un costo considerevole in città almeno una famiglia su due a questa necessità fanno notare ancora i grillini che hanno presentato la mozione anche sulla scorta della legge regionale del 21 aprile 2008 che riguarda proprio i cimiteri per gli animali d'affezione se la proposta dovesse passare Termoli farebbe da apripista in Molise si è svolta a Palazzo San Giorgio l'ultima seduta del Consiglio Comunale dei Bambini i lavori sono stati aperti dal sindaco di Campobasso che ha sottolineato i passi in avanti compiuti dai piccoli consiglieri nel giorno in cui si festeggia l'Europa detto Battista è importante sottolineare il valore della pace che dobbiamo custodire fin dalle più giovani generazioni adesso parliamo della sfida del Campanile una trasmissione della RAI a cui parteciperà anche Stefano Rufo uno chef del Molise che si è già distinto nella prova del cuoco sentiamo Valeria Farina ha fatto conoscere i gusti e i sapori del Molise dai ravioli di scapoli al cinghiale sfumato con la tintilia fino alla polenta e alla crema di fagioli confetto Stefano Rufo, chef molisano di Rocchetta al Volturno dopo aver vinto diverse sfide tra i fornelli nella trasmissione tv condotta da Antonella Clerici la prova del cuoco su RAI 1 si prepara alla finalissima della rubrica la sfida del Campanile venerdì inizieranno le finali fino adesso siamo stati lì e ci siamo classificati adesso dobbiamo finire in bellezza tanti riconoscimenti ottenuti da Chef Rufo dopo il giro d'Italia dei sapori a Fano e il riconoscimento sulla rivista la Madia Travel Food Rufo rappresenta una delle eccellenze della cucina molisana spero di vincere però ci vuole l'aiuto di tutti quanti voi perché io ho messo la mia faccia e mi sono classificato però adesso ci vogliono i voti per vincere i voti di tutti quanti durante la sfida del Campanile Stefano Rufo gareggerà contro l'Emilia Romagna la Basilicata e il Friuli Venezia Giulia votare sarà facile per far vincere il Molise basterà mandare un sms oppure chiamare dal telefono fisso che i fuochi divampino per diffondere aromi, gusti e sapori di un Molise autentico ricercato e saporito e per gli spettacoli teatrali al Savoia di Campobasso vi ricordiamo domani sera Pompieri in tacchi a spillo Commedia in due atti di Eva De Rosa con la regia di Pina Ricca e la direzione artistica di Rita Santoro sabato a Vinchiaturo invece la giornata di lavori dal tema turismo e natura verso il Parco Nazionale del Matese ce ne parla Cristina Nero Molise turismo e natura verso il Parco Nazionale del Matese e questo è il tema che l'UMPLI affronterà sabato alle cupolette di Vinchiaturo alla presenza di autorevoli esperti del settore abbiamo inteso promuovere una giornata di lavori interamente dedicata alla montagna del Matese la riteniamo cruciale per lo sviluppo di questa regione non solo per l'area matesina ma per l'intera regione il Parco Nazionale del Matese può essere un vero volano di sviluppo per il Molise per l'area per la cittadinanza del Matese può rappresentare per il Molise quello che il Salento ha rappresentato per la Puglia quello che i Sassi di Matera hanno rappresentato per la Basilicata insomma ci crediamo molto Questa mattina la conferenza stampa di presentazione durante la quale il presidente dell'UMPLI Angelo Premiani ha ribadito l'importanza che riveste lo sviluppo del Parco del Matese per il Molise e la sua crescita sociale ed economica Noi vogliamo lanciare un messaggio forte e chiaro puntare sulla natura e puntare sul turismo legato alla natura questo non è fine a se stesso perché può essere intendiamo promuovere un modello di sviluppo sostenibile quello legato appunto ad un'economia rurale e ad un'economia legata all'ambiente e al territorio Dal canto loro le proloco della regione sono all'opera per studiare strategie e programmi che favoriscono lo sviluppo delle aree interne Stiamo lavorando molto sul territorio da sempre lavoriamo per la tutela la salvaguardia e la valorizzazione delle peculiarità della nostra regione siamo impegnati fortemente sui borghi quest'anno è l'anno nazionale dei borghi riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali e noi siamo parte attiva di questo di questo anno dedicato ai borghi facendo parte del comitato interministeriale appunto dedicato ai borghi quindi svolgiamo già un'azione di tutela e valorizzazione dei piccoli centri in questo contesto intendiamo promuovere anche quest'altra iniziativa legata appunto alla montagna e alla valorizzazione della stessa ci fermiamo vi lascio alle previsioni del tempo tra poco più di mezz'ora ci sono gli aggiornamenti grazie per essere stati con noi e a più tardi grazie a tutti